Benvenuti sui canali di Lenti Car Automobili per tutti, andiamo subito a visionare questo veicolo un po' particolare. Si tratta di una Suzuki SX4 a trazione integrale ad inserimento automatico con differenziale autobloccante. Unico proprietario, ha percorso solo 72.000 km ed è in ottime condizioni, anzi direi perfette. Ecco qua il chilometraggio e poi il suo stereo originale, l'aria condizionata e qui vediamo i pulsanti dell'inserimento della trazione integrale e dell'antisbandamento. Comandi audio al volante e poi naturalmente chiusura centralizzata a vetri elettrici e specchietti retrovisori elettrici. I sedili posteriori hanno gli attacchi Isofix per i sedili dei bambini e poi gli schienari sono abbattibili e ribaltabili. Allora forza montanari e scalatori, chiamateci subito per avere ulteriori informazioni relative a questo veicolo oppure mandateci un whatsapp. Ciao!